Noi nella prima lezione abbiamo usato la... Hai fatto un tipo di modellazione particolare. Come l'hai usata? All'astra. All'aste. All'astra. Cioè? Spiega, spiega. Cioè l'abbiamo tagliata. Poi? Poi l'abbiamo fatta prima con le mani e poi col marterello. Bravo. Dopo aver scelto la forma abbiamo spalmato un po' di... Di collante. Come si chiama? Ti ricordi? L'acqua e l'argilla. Si chiama? Dillo Luigi. Come si chiama? Barbottina. Bravissimo. Si chiama barbottina. Abbiamo usato la barbottina. Che è la colla? La colla. Acqua e... E argilla. E argilla. Oggi invece? No, oggi invece... Facciamo la tecnica. Quale ti ricordi? Facciamo la tecnica del... Del colonnino. Bravo. I dati... Si possono realizzare anche con uno strumento particolare. Ti ricordi come si chiama? Il to... Tornio. Il tornio. Possiamo lavorare a stampo. A stampo? A stampo. Una volta realizzati gli oggetti, che si deve fare, Angela? Si deve mettere nel... a stampo. Grazie.